Ha fatto discutere l'inchiesta del settimanale L'Espresso in cui un giornalista fingendosi immigrato si è visto rifiutare l'accoglienza da molte chiese, nonostante l'appello di Papa Francesco che ha chiesto alle parrocchie cattoliche di esprimere la carità cristiana, accogliendo ciascuna almeno una famiglia di immigrati. Ci siamo chiesti quali siano i meccanismi che regolano l'accoglienza dei profughi da parte della Chiesa Cattolica e siamo andati a verificarlo in alcune parrocchie di Milano, provincia in cui sono circa una trentina quelle che hanno già dato la propria disponibilità. Ecco quello che ci hanno raccontato Don Marco Pennati, coordinatore del centro Caritas della parrocchia di Santa Maria Annunciata Chiesa Rossa e Don Alberto Vitali, parroco della chiesa di San Bernardino Leossa, conosciuta proprio come la parrocchia dei migranti. Le redini dell'operazione accoglienza, chiamiamola così, le ha in mano Caritas Ambrosiana, la quale chiede alle parrocchie la disponibilità per un'eventuale accoglienza. Quando la parrocchia valuta che l'accoglienza è possibile, presenta a Caritas la propria disponibilità e Caritas valuta alcune cose, sono necessari alcuni criteri per l'accoglienza. Anzitutto un ambiente idoneo, per cui Caritas controllerà che in parrocchia ci sia un ambiente idoneo all'accoglienza e quale accoglienza, se una persona, due, una famiglia, dei giovani, degli anziani. Poi il secondo criterio è quello dell'accoglienza integrata, per cui una conoscenza del tessuto parrocchiale per far sì che le persone che vengono possano integrarsi nel tessuto della parrocchia. È vero che non in tutte le parrocchie c'è la possibilità pratica di farlo. Cosa interessante è che alcune parrocchie, vista l'impossibilità di praticare direttamente un'accoglienza, si stanno organizzando per raccogliere dei fondi e ad esempio sostenere in maniera diversa l'accoglienza ai profughi. Alcuni si stanno organizzando in gruppi di parrocchie affittando dei locali piuttosto che altre forme tutto sommato creative, direi. In molti casi le parrocchie si occupano già di fornire assistenza a stranieri e immigrati in difficoltà, ad esempio con il banco alimentare. Per il resto esistono delle regole, l'accoglienza dunque non è demandata alla libera iniziativa delle singole parrocchie, che comunque si stanno preparando. Questi sono gli ambienti che attualmente ospitano gli uffici parrocchiali, ma fra poche settimane ci trasferiamo dall'altra parte del cortile, quindi saranno ambienti libri che potranno essere sistemati per ospitare la famiglia o le persone che Caritas ci segnalerà. Sono tanti, infine, i parrocchiani che hanno dato la propria disponibilità per servizi di volontariato e assistenza ai nuovi arrivati. Al tempo stesso, però, questi ultimi potranno e in qualche modo dovranno mettersi a loro volta a disposizione delle parrocchie per essere il più possibile non ospiti ma parte integrante della comunità.